All'INEL di Roma si è tenuto il convegno Salute e sicurezza sul lavoro, una questione di genere, durante il quale sono stati presentati i risultati di un gruppo di lavoro multidisciplinare, costituito da esperti di sicurezza sul lavoro, di pari opportunità e di datori di lavoro. Aperto ai lavori, Maria Cecilia Guerra, Vice Ministro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità, alla quale abbiamo rivolto alcune domande. Salute e sicurezza sul lavoro, una questione di genere, un laboratorio importante per coniugare le politiche del lavoro con quelle delle pari opportunità. Vogliamo sentire il parere della Vice Ministra. Sì, è molto importante questo tipo di studio, di approfondimento, perché diciamo che l'orientamento seguito generalmente sui temi della salute e della sicurezza del lavoro risente di un approccio maschile, nel senso che è focalizzato magari sui settori di attività o sulle tipologie di lavoro che tradizionalmente hanno caratterizzato prevalentemente il lavoro maschile. Il fatto che le donne siano concentrate in alcuni settori di attività e in alcune mansioni ha portato a far sì che questo territorio, il territorio delle donne sul lavoro, sia meno conosciuto. E quindi questo ha implicazioni sia nelle definizioni degli standard di sicurezza e di salute e sia anche nel capire quali sono gli indennizi da poter dare in caso di lesioni o malattie e difficoltà che si presentano sul lavoro. Poi ci sono dei temi più ampi ovviamente perché la salute e la sicurezza per la donna sul mercato del lavoro si intrecciano in modo strettissimo con le cosiddette segregazioni, quindi le difficoltà che la donna incontra perché non è uguale l'accesso al mercato del lavoro per maschi e femmine, dobbiamo ricordarcelo, questo approfondimento di oggi ce lo dice in modo specifico, la segregazione orizzontale cioè per settori ma anche quella verticale in cui anche quando si è nello stesso contesto la donna viene quasi sempre affidata a una qualifica più bassa, meno retribuita eccetera. E questo ha implicazione proprio sull'analisi delle specificità, delle difficoltà che si incontrano sul lavoro. Poi il tema generale della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro che è molto forte, molto problematica per la donna a cui ancora si riserva la grandissima parte del lavoro domestico e di cura che provoca ovviamente stanchezza, stress, difficoltà organizzative che si riflettono anche sulla sicurezza sul lavoro, si riflettono anche sulla salute perché ovviamente diventa tutto più difficile da sostenere. Quindi un tema, quello che oggi viene affrontato, della salute e della sicurezza in un'ottica di genere che è assolutamente cruciale anche per una prospettiva più ampia di pari opportunità. Al convegno è intervenuta la consigliere di parità Alessandra Servidori che ci ha spiegato il ruolo strategico che le istituzioni di parità possono avere nel migliorare la sicurezza di genere. Il ruolo è virtualmente molto importante se naturalmente chiarisce chi fa che cosa nel senso che, come giustamente è stato ricordato anche stamattina, la pubblica amministrazione e quindi gli enti naturalmente pubblici si sono dotati di questo organismo che è il Comitato Unico di Garanzia che si può e si deve occupare anche di salute, prevenzione e sicurezza e adottare un sistema tale che garantisca di avere una collaborazione e un'assunzione di responsabilità all'interno dell'azienda con gli aiuti che appunto gli strumenti delle norme ci concedono. I relatori sono stati concordi nell'affermare che per dare maggiore concretezza alla tutela della salute sul lavoro è necessario identificare strumenti nuovi che tengono conto anche delle differenze di genere e su questo aspetto sentiamo la coordinatrice del progetto presentato all'Inail. Sì, è un progetto, la priorità è quella di valorizzare le differenze le differenze che ci sono fra di genere e di sesso questo è importante, fra uomini e donne nel rapporto con la sicurezza. Il progetto è un progetto multidisciplinare in quanto affrontare questa complessità richiede una serie di professionalità specifiche e importanti perché si va dal diritto alla sociologia alla medicina, l'igiene del lavoro che vanno tutti a confluire per cercare di costruire un modello di valutazione del rischio in ottica di genere che sia attinente alle realtà organizzative che si vanno a prendere in considerazione ovvero oggi noi siamo in grado di rilasciare una buona pratica per aiutare nella valutazione del rischio in ottica di genere. Concludiamo con il parere della Presidente del Cug della Corte dei Conti sul ruolo che possono avere i comitati unici di garanzia nella sicurezza di genere. Il Cug della Corte dei Conti naturalmente si è aderito a questa iniziativa dell'INAIL proprio perché ritiene che il Cug sia uno strumento formidabile per la sicurezza sul lavoro in ottica di genere. Nelle linee guida sono previste una serie di adempimenti che il Cug deve seguire da parte delle amministrazioni ad esempio la relazione sul personale laddove si va a incidere proprio si vanno ad analizzare i dati sulla sicurezza anche sulla sicurezza è previsto legislativamente che i comitati unici di garanzia si occupino anche di sicurezza sul lavoro perché non ci può essere benessere organizzativo se non c'è sicurezza sul lavoro. Quindi il Cug è uno strumento formidabile. Purtroppo il Cug sconta la novità ancora la piccola, la recente introduzione di questo istituto nelle pubbliche amministrazioni non è noto a tutti occorre fare molta formazione ma soprattutto molta informazione su quelle che sono le competenze vere dei comitati unici di garanzia grazie a tutti